Ora si fa sul serio e quando si fa sul serio diventa obbligatorio non sbagliare. Parte domani il girone nero di Serie A2 di Palacanestro, raggruppamento che mette in palio la permanenza nel secondo campionato italiano di basket. Un girone a otto a cui prendono parte le ultime quattro dei due raggruppamenti di regular season, che decreterà due retrocessioni dirette e altrettante derivanti dai play-out. Per la salvezza occorrerà arrivare tra le prime due del girone, dal terzo al sesto posto saranno spareggi. Gli ultimi due scalini prevedono il passaggio diretto all'inferno. La cestistica Sansevero debutta domani alle 18 al Palacastellana, dove è attesa dalla sfida con la Stella Azzurra Roma, guidata dal grande ex Luca Becchi. Squadra dal cammino davvero particolare quella capitolina. Dieci sconfitte consecutive in avvio, prima di sette vittorie di fila. In casa Sansevero, coach pilot punta su un organico che sembra scoppiare di salute e che è finalmente al completo. Al resto dovrà pensare domani pomeriggio il calore dell'appassionato pubblico del Palacastellana. Primo passo verso la permanenza da domani. È davvero vietato sbagliare. Grazie a tutti.